Allora, buongiorno, comincio a farvi vedere, a presentare, quindi a farvi vedere l'introduzione della presentazione che abbiamo preparato. Parleremo di finanza decentralizzata, quindi le novità che già da un po' di tempo comunque stanno portando i nuovi protocolli, l'iter di diversi applicativi che andremo a vedere nell'ottica di blockchain e possibilità di effettuare degli scambi, nonché di richiedere prestiti o essere fornitori di prestiti utilizzando i nostri wallet, quindi le nostre criptovalute. Io sono Michele Capozzo, tra le varie cose pubblico contenuti online, quindi faccio creatore di contenuti, in più, come stiamo vedendo oggi, comunque mi occupo anche di blockchain e criptovalute e non mi dilungo troppo che svolgo diverse attività. Faccio presentare anche Antonio. Salve a tutti, io sono Antonio, al momento sono un software developer, però mi sono sempre interessato al mondo delle criptovalute, soprattutto di piattaforme come Ethereum e quindi piattaforme che danno la possibilità di scrivere smart contract e di programmare proprio la valuta. Mi occupo anche di programmazione di smart contract, studio tanto la finanza decentralizzata ed è già da un po' di tempo che mi interessa a queste cose, non mi dilungo troppo. Vai Michele. Ok, nella presentazione andremo a vedere sia le informazioni, toccheremo vari appunto punti della finanza decentralizzata, io al Torio ci alterneremo per vedere un paio di demo live praticamente, nello specifico di compound e Uniswap che sono dei software, degli applicativi che possiamo reperire direttamente online che ci permettono di effettuare una serie di operazioni che adesso vedremo. Dunque, adesso vediamo l'introduzione alla finanza decentralizzata e prima di iniziare chiaramente andiamo a capire di cosa si tratta, cos'è, qual è la novità, dove stiamo andando. Dunque, la finanza decentralizzata si può rendere l'idea anche abbastanza velocemente da una semplice immagine. Attualmente sia nell'ottica bancaria tradizionale, anche se oggi approfondiamo nello specifico quello che riguarda criptovalute e blockchain, di fatto ci vede andare a fare degli scambi, andare a comprare e vendere criptovalute, effettuare operazioni direttamente presso un ente centralizzato, quindi un exchange che la maggior parte delle volte ci fa fare un KYC, un Know Your Customer. Ovviamente si tratta della possibilità di mandare i documenti e autenticare di fatto il proprio conto. Quando andiamo a fare una ricarica su un exchange per effettuare acquisti e operazioni, inviamo un bonifico che spesso deve essere tra l'altro eseguito da un conto corrente a nostro stesso nome, per questioni di ovviamente protezione e normative che sono vigenti. Con la finanza decentralizzata, di fatto questo meccanismo diventa appunto, come suggerisce il nome, decentralizzato. Quindi noi potremo utilizzare i nostri wallet, quindi direttamente Metamask per esempio, lo andremo a vedere, che abbiamo direttamente sul browser magari, e andare a effettuare degli scambi, quindi cambiare i nostri BTC, per ETH, per qualsiasi altro tipo di valuta, e per USDT, stablecoin, quello che vogliamo, in forma decentralizzata. Tutto quello che verrà registrato sarà di fatto su uno smart contract, di cui andremo a pagare le V, e ci arriveremo anche a questo punto chiaramente, e verrà registrato sulla blockchain che determinati wallet, quindi un codice esadecimale avrà fatto una determinata operazione. Non dovremo dare il nostro nome e cognome, non dovremo fornire i nostri documenti, come diciamo si può intuire, è una cosa un pizzico più anonima, nell'ottica appunto decentralizzata. E questa è la differenza. Gli utenti, i stessi utenti sono fornitori di liquidità, quindi la possibilità di effettuare gli scambi viene fornita da persone, da noi con i nostri wallet, chi fornisce liquidità riceve in cambio una certa percentuale, che è estremamente variabile, di ritorno annuo, quindi va a guadagnare su quello che è lo staking del proprio portafoglio cripto, e allo stesso tempo chi va a effettuare lo scambio paga una piccola fee per questo tipo di servizio. Nulla che si vada a dispostare troppo tra quello che troviamo sui classici exchange centralizzati. Andando avanti, andiamo a raccogliere qualche dato. Dunque, il tipo di protocollo e quindi la possibilità di effettuare scambi in finanza decentralizzata è nato ultimamente, stiamo parlando appunto degli ultimi mesi, e c'è stata una grossa accelerazione nell'ottica di quello che riguarda proprio il totale bloccato. Spieghiamo brevemente. Quando io vado a fare da fornitore di liquidità per un determinato scambio, di fatto vado a fornire, a bloccare un tot quantativo dei miei asset, del mio portafoglio. Quindi, facendo l'esempio di avere a disposizione 500 dollari, io li tengo fermi lì, posso sbloccarli quando voglio, però di fatto divento fornitore di liquidità. Questo ammontare viene poi inserito in una serie di indici, stiamo avendo uno dei più classici, che è DeFi Pulse, aggiornato agli ultimi giorni, che fa vedere come si tratti di qualcosa che viene sfruttato da tantissime persone, quindi da un forte numero di utenti, e questo da stabilità e allo stesso tempo consistenza a tutto il sistema. Attualmente abbiamo bloccato un controvalore di 38,6 miliardi di dollari. Questo permette di avere, ovviamente, forte liquidità sui vari applicativi e quindi di effettuare scambi in sicurezza e senza pagare fee troppo alte e in modo molto semplice. Questo varia in base a quanto dobbiamo cambiare, a quanto è grande il nostro scambio, ma chiaramente ci arriveremo a mano. In termini di dati vediamo che, andando su DeFi Pulse, abbiamo sia un indice e di fatto è anche possibile investire su questo indice in relazione ai vari servizi disponibili, ai vari applicativi decentralizzati, e qualche dato riguarda le principali piattaforme come Maker oppure Compound, che permettono di effettuare sia dei prestiti, quindi prendere in prestito una tot criptovaluta, magari qualche stablecoin, e mettendo poi a garanzia una parte del nostro portafoglio. Quindi magari abbiamo due Ethereum, che al controllo che oggi sono circa 3.000 dollari, possiamo richiedere un prestito mettendo a garanzia quel tot ETH, 1.500 dollari, pagando un tot interesse annuo. Il tutto parte anche da quello che riguarda le stablecoin. Stablecoin che siamo abituati a vedere nell'ottica del dollaro, quindi stablecoin che si ancorano al valore del dollaro, però dobbiamo anche cambiare un po' la nostra visione al riguardo, perché esistono anche stablecoin ancorate al valore di Bitcoin. Una stablecoin, per chi non lo sapesse, è una valuta che, a differenza di tante altre, come BTC, ETH, Litecoin e così via, non è ancorata al valore... non è ancorata all'incontro tra domanda e offerta, quindi il suo prezzo rispetto alle valute tradizionali, alle monete fiat come euro e dollari che varia nel tempo, bensì cerca di rimanere ancorata il più possibile, quindi stabile, all'unità di misura, tra virgolette, principale, che è il dollaro, come riserva monetaria mondiale attualmente. Quindi possiamo anche vedere che può cambiare questo tipo di paradigma anche nell'ottica del Bitcoin. Il primo simbolo che vediamo è quella, la stablecoin relativa al BTC, quindi replica per intero, io dispongo di un Bitcoin avendone una intera a disposizione ed è il Wrapped Bitcoin. Vedremo anche precisamente di che cosa si tratta. Le altre sono DAI, USDC e ci sono vari tipi di stablecoin e la sicurezza di queste criptovalute arriva direttamente dai protocolli su cui sono poggiate. Esistono vari tipi di protocolli, chiaramente abbiamo differenti tipi di tecnologie associate, molto spesso operiamo sulla stessa rete di Ethereum, quindi tramite token ERC20, come per esempio parlando di USDT che è ancorata al dollaro ad esempio, però dobbiamo fare alcune distinzioni. Le stablecoin, anche se replicano magari nell'ottica USDC, quindi stablecoin ancorata al dollaro, stesso discorso per USDT, o magari DAI, possono avere dei protocolli differenti. Vediamo di che cosa si tratta. Alcune volte vediamo che il valore di quella stablecoin è risostabile da quello che abbiamo in termini di deposito. Esempio molto semplice. Nell'ottica di USDC controllato da Coinbase, di fatto Coinbase è uno dei principali exchange, come sappiamo, su scala mondiale, l'emissione dei USDC è vincolato a un determinato deposito in moneta fiat. Quindi ho a disposizione, magari coinvesse a disposizione, 1000 dollari, dico cifre chiaramente indicative, e è in grado di emettere direttamente su blockchain, tramite il proprio exchange, eccetera, 1000 USDC, che possiamo utilizzare come se fossero appunto dei dollari e spostare, come se volessimo spostare, degli Ethereum, quindi sulla rete blockchain, con un semplice prelevo, una semplice operazione. Allo stesso modo avremo a disposizione quindi una criptovaluta sicura, che è poco volatile, perché si poggia chiaramente su un deposito fisico che è stato fatto appunto da un ente centralizzato in questo caso, che di fatto è anche uno dei contro di questo tipo di tecnologia. Abbiamo altre stablecoin come DAI, che sono appunto crypto baked, a differenza di asset depositati, il valore viene reso stabile tramite un controvalore, quindi una sorta di collaterale, crypto depositato. In questo modo c'è un altro, diciamo, perno di funzionamento. Non avremo lo stesso valore vincolato, chiaramente, rispetto al deposito, come prima abbiamo fatto l'esempio di 1000 dollari a 1000 USDC, non avremo un deposito di un ETH per 1500 DAI al prezzo di oggi, bensì, di fatto, dato che ovviamente il valore delle criptovalute è abbastanza volatile, avremo un'emissione di DAI un po' più controllata e quindi inferiore rispetto al controvalore nel momento preciso in cui si deposita il tutto. Avere questo tipo di funzionamento porta a una serie di vantaggi. Come indicato, chiaramente si tratta di decentralizzazione, quindi torniamo sempre lì in termini di perno portante in ottica di sistema. La blockchain va in quella direzione, chiaramente. È trasparente perché tutte le operazioni, tutti gli spostamenti, eccetera, chiaramente possono essere visti, accessibili direttamente sul libro mastro, quindi sulla blockchain, e allo stesso tempo non abbiamo un'autorità centrale, quindi non c'è qualcuno che può fare il bello e il cattivo tempo che gestisce tutto il sistema. Chiaramente di contro, come ho anticipato in precedenza, abbiamo una stabilità inferiore in quanto siamo soggetti, chiaramente, a quello che riguarda il sottostante, quindi quello che inseriamo come collaterale per l'emissione di DAI e di criptovalute, quindi di stablecoin, che hanno come sottostante le criptovalute, che come detto variano nel tempo. Inoltre abbiamo anche un sistema algoritmico dove c'è un determinato algoritmo che, inserito all'inizio, poi eventuali modifiche, eventuali cambiamenti, possono essere poi votati dalla community, tramite magari un token di governance, e quindi si decide in forma generale, quindi non c'è un ente centrale che decide come cambiare tale algoritmo, per ancorare in questo modo un stablecoin ad un determinato asset, ad un determinato valore. Quindi non abbiamo bisogno di un collaterale in questo caso, perché è un stablecoin di tipo algoritmico, chiaramente tutti possono andare a leggere come funziona questo algoritmo, e chiaramente a seconda di questo funzionamento potremo avere però delle fluttuazioni, quindi diventa più rischioso nell'ottica di ancorarsi ad un determinato valore. Potremmo avere una stablecoin un po' più volatile di fatto. Esistono varie piattaforme che oggi ci permettono di sfruttare i protocolli di finanza decentralizzata, come Compound, CRIMAVE, abbiamo qui qualche riferimento. Le ho citati prima perché sono Maker oppure Compound, sono le principali piattaforme dove troviamo vincolati diversi miliardi di dollari che permettono di fare operazioni. Tramite queste piattaforme cosa è possibile fare? Tramite queste piattaforme noi possiamo, se abbiamo delle, deteniamo delle criptovalute, possiamo fornire la nostra liquidità, vedremo più avanti come fare, e di fatto rendere disponibili i nostri fondi in cambio di un interesse annuo, estremamente variabile. Allo stesso modo possiamo chiedere dei prestiti, come anticipato prima, mettendo a garanzia le nostre criptovalute. Quindi restituire questi prestiti tramite uno smart contract poi, per riscattare il nostro collaterale, quindi le criptovalute che abbiamo messo a garanzia, e in questo modo sfruttare, se abbiamo un portafoglio che ha mille, duemila, cento euro, duecento euro, sfruttare una parte di questo portafoglio inserendo come collaterale e quindi monetizzarlo, mantenendo però a nostra disposizione gli asset. Dobbiamo stare attenti chiaramente agli interessi da pagare, a eventuali fluttuazioni della valuta, però di fatto se ci serve, se abbiamo bisogno di liquidità, possiamo mettere a garanzia appunto il nostro piccolo portafoglio di criptovalute. Come indicato, quindi richiesta di stablecoin e di fatto necessità della community verso un inter magari decentralizzato, ha portato chiaramente alla nascita di piattaforme di questo tipo, che permettono di fare appunto lending e borrowing. Di fatto la possibilità di dare e richiedere prestiti le stablecoin. Alcune volte, come detto, possiamo anche richiedere delle criptovalute più volatili come Ethereum o Litecoin, Bitcoin, eccetera. Mettendo a disposizione le nostre stablecoin possiamo avere un profitto e esistono alcuni rischi che adesso andremo a vedere. I protocolli, diciamo, li abbiamo visti, possono essere compound, ave, crimi. Il funzionamento è similare in ogni caso. Adesso parliamo di, facciamo un esempio di compound, cedo la parola ad Antonio per far vedere cosa si tratta e anche vedere brevemente come funziona il tutto. Ok. Allora, compound, come abbiamo visto e come anche tante altre piattaforme, è un protocollo che automatizza la generazione di un tasso di interesse per chi mette a disposizione le proprie criptovalute, siano i stablecoin o asset volatili, come può essere Ethereum o altre coin che girano su Ethereum. E quindi gli utenti hanno la possibilità di diventare dei veri e propri prestatori di liquidità, depositando tutti quanti gli asset che hanno a disposizione o quelli supportati dalla piattaforma. Tali utenti riceveranno poi in cambio della liquidità messa a disposizione, diciamo, di compound, dei token che vengono chiamati C-tokens, compound tokens, che rappresentano gli asset sottostanti, gli asset che vengono depositati e con i quali è possibile poi riscattare il proprio interesse. La cosa interessante del ricevere dei token per la propria liquidità è che questi token potranno essere poi reinvestiti e infatti non sono pochi i protocolli che permettono il reinvestimento di questi token, creando una sorta di circolo di interessi fondamentalmente. Volevo farvi vedere una demo. faccio vedere subito. Puoi presentare? Sì. Ok. Dovreste riuscire a vedere? Sì. Ok. Allora, questa è l'interfaccia di compound, interfaccia molto semplice. In pratica abbiamo i supply markets che sono i mercati su cui noi possiamo andare a prestare liquidità e abbiamo invece i borro market che sono i mercati dai quali possiamo prendere dei prestiti in determinati criptovalde. Non pensate che io abbia 90 Ethereum perché non li possego, siamo su una testnet e quindi per iniziare a fare delle transazioni, per iniziare a vedere un po' come funziona il tutto. In pratica supponiamo che io abbia 500 DAI, 499 DAI, che sono dei... che è la moneta che riflette il valore del dollaro. Vedo che avrò un ritorno anno del 7,90% al momento e che posso utilizzare questa moneta come collaterale. Infatti potrei abilitare questa moneta come collaterale per prendere poi in prestito una delle altre moneta. Le transazioni, fare una transazione su compound e diventare un lender è molto semplice poiché basta praticamente dare la cifra che si vuole dare in prestito, supply, ovviamente con il proprio wallet Metamask o altri wallet che si utilizzano. Una volta fatta la transazione, la transazione dovrà passare. Quindi aspettiamo che la rete di test ci faccia passare la transazione. Quindi come vedete fondamentalmente la questione di questi protocolli è che sono completamente trasparenti e anche i contratti che fanno girare questi protocolli sono trasparenti e quindi possiamo vedere proprio l'accumulo di interesse che avviene praticamente ogni 15 secondi. Infatti io ogni 15 secondi potrei stare lì a prendere il mio interesse. Ok, quindi adesso ho un supply balance di 105 dollari fondamentalmente. Potrei mettere a collaterale questo balance con un'altra transazione con cui autorizzo compound ad utilizzare come collaterale quel determinato quantitativo di moneta che ho messo a disposizione. E una volta fatto questo vedrò che posso prendere in prestito delle criptovalute sotto determinate condizioni. Nel senso che non posso prendere il 100% del mio collaterale, potrò prendere una somma variabile, un tasso variabile diciamo del mio collaterale. Se non sbaglio al momento su compound è tipo del 75% o qualcosa del genere. Ecco che. Ricarico la pagina. Ora vedrò che ho come collaterale i miei DAI e posso prendere in prestito ad esempio dei basic attention token o degli ether. Posso fare borro. Un'altra transazione. e in pratica con tre transazione avrò sia dei DAI che sono depositati che fanno da collaterale per il mio prestito, sia degli ether che avrò nel mio portafogli. Infatti saranno 91 piuttosto e 90 aggiungendo diciamo i vari. E però praticamente adesso la testnet sta facendo un po' di capricci però fondamentalmente quello che è successo è che io ho questo collaterale, mi hanno dato questo prestito di 0.315 eth che io dovrò ripagare al tasso di 0.08% annuo fondamentalmente. Qui avrò diciamo il limite che io posso andare a prendere in prestito e in particolare se questo limite arriva al 100% con le varie operazioni che faccio il mio collaterale verrà liquidato e quindi diverterò i miei DAI. E niente fondamentalmente Compound è questa. Sulla mainnet c'è la possibilità anche di guadagnare dal fatto di dare liquidità perché ci possono dare una percentuale della nostra liquidità in token nativi di Compound che ci permettono di avere un interesse maggiore sulla nostra liquidità fondamentalmente. Ripasso la parola a Michele. Ok riprendiamo la presentazione. Ok eccoci. Perfetto. Abbiamo visto brevemente Compound e quindi quello che riguarda la possibilità di richiedere prestiti ad esempio oppure di inserire un proprio collaterale lo rivediamo a breve tra l'altro su un'altra piattaforma di fatto esistono come detto varie piattaforme che offrono questo tipo di servizio e ognuna ha il suo effettivo tasso di ritorno quindi quello che andremo a guadagnare se andiamo a prestare il nostro tutto lute se a metterle metterle a garanzia in questo caso se andiamo a richiedere un prestito quindi da un lato dall'altro avremo differenti tassi un po come se ci fosse un po di concorrenza tra virgolette ed esistono per questo motivo degli yield aggregators. Gli yield aggregators sono piattaforme come esempio rari.capital.yearfinance che di fatto vanno a fare la ricerca della migliore opzione direttamente per noi quindi possiamo avere una sorta di comparazione per capire dove ci conviene magari mettere a garanzia in quel determinato momento un tot di criptovalute per far chiedere prestiti ad altre persone oppure a nostra volta richiedere un prestito mettendo a collaterale. In questo modo ottimizziamo quello che abbiamo a disposizione molto semplicemente. Parliamo poi dei automated market makers che sono piattaforme che dopo aver visto quindi l'iter relativo alla possibilità di chiedere prestiti o fare da fornire liquidità per quanto riguarda i prestiti adesso parliamo di quello che riguarda la possibilità di effettuare degli scambi quindi non solo cambiare btc per eth cambiare btc per usdt quindi per stablecoin effettuare una serie di scambi dipende anche dalla piattaforma e i riferimenti che vediamo qui davanti sono di uniswap la prima piattaforma quella più utilizzata attualmente per gli scambi poi c'è anche sushi swap ne sono varie ne sono nate altre man mano. Tra l'altro piccola piccola parentesi oggi un uni vale circa 30 dollari di fatto chi è riuscito a utilizzare la piattaforma anche solo per provare magari facendo piccoli scambi piccoli smart contract utilizzando metamask ha ricevuto gratuitamente 400 uni che ad oggi corrispondono diciamo ad una cifra interessante il regalo tra virgolette la piattaforma sono stati distribuiti per perché sono i token nativi della piattaforma anche per una questione di governance quindi eventuali aggiornamenti verranno poi votati dagli utenti sul funzionamento della piattaforma sull'iter che riguarda i ritorni di chi inserisce valute o eventuali magari come dire costi relativi alle transazioni. Dunque gli automated market makers quindi ci permettono di effettuare degli scambi su queste piattaforme possiamo anche fare da liquidity provider quindi inserire liquidità per un determinato scambio lo andiamo a vedere tra poco praticamente insomma molto semplicemente che cosa significa che scelgo una coppia quindi non c'ho non so btc usdt btc eth una determinata un determinata coppia di scambio tra criptovalute che siano stablecoin o criptovalute appunto non stabili e di fatto potremmo andare a depositare il parte del nostro wallet direttamente sulla piattaforma in forma uguale tra di entrambe le valute esempio se voglio fornire liquidità per lo scambio tra eth e usdt quindi una ethereum e una stablecoin dovrò andare inserire lo stesso quantitativo di entrambe le valute se ho un eth a disposizione mi servono anche al cambio di oggi all'incirca 1500 usdt facendo questo prenderò parte alla liquidity pool quindi alla immaginiamola come una grossa torta quindi una pool di liquidità dove sono inseriti fermi bloccati ethereum e usdt e che le persone utilizzano appunto per effettuare questo tipo di scambio per fare uno swap dei propri token tra virgolette quindi cambiare magari da ethereum a usdt o viceversa e maggiore la quantità che io vado a inserire quindi più grande la mia fetta rispetto alla torta totale maggiori saranno i ritorni annui adesso andiamo anche a vederlo praticamente perché la piattaforma ce lo dice ci spiega effettivamente in tempo reale quali sono i ritorni e quanto è grande lo scambio che stiamo andando a fare o quanto è grande la liquidità che stiamo andando ad aggiungere sul totale e chiaramente questo tipo di protocollo permette di far guadagnare i liquidity provider quindi ho blocco le mie criptovalute e ricevo un interesse annuo a seconda della liquidità che vado a fornire questo interesse è estremamente variabile in base come detto a quanto è grande la mia fetta la mia porzione della torta e quindi però comunque avendo a disposizione degli asset posso metterli a garanzia ricevere degli interessi passivi per così dire quindi come detto abbiamo a disposizione uniswap o sushi swap il principale è uniswap e di fatto abbiamo una piattaforma che ha preso da tempo piede non è attiva da tantissimo tempo parliamo di qualche mese però già vediamo da qualche dato di utilizzo come questo tipo di protocollo questo tipo di funzionamento sia chiaramente appoggiato dall'udenza in quanto in forma come detto decentralizzata abbiamo anche sorpassato chiaramente il momento in cui lo leggiamo circa più di 83 miliardi di dollari scambiati in termini di transazioni su queste piattaforme quindi transazioni che avvengono su criptovalute per esempio al di fuori completamente del sistema centralizzato di cui abbiamo parlato poco fa più di 72 mila utenti persone sicuramente anche di più che mettono a disposizione la propria liquidità perché di fatto come spiegato io ci guadagno se ho a disposizione magari qualcosina in criptovalute fornendo liquidità riceve un interesse anno quindi vado ad accrescere quelle che sono i miei asset tra virgolette parcheggiati fermi più di 29 milioni di operazioni eseguite e andiamo a vedere anche come farne una come come impostarla in modo semplice chiaramente il consiglio di sempre effettuare dei piccoli test prima di magari spostare non so mettere a liquidità 100 200 euro magari in termini di cifre possono essere tanti o pochi a seconda dei punti di vista si possono anche fare test semplici diciamo che attualmente la problematica è corrisposta da relativamente alle file commissioni che paghiamo in questo caso in gas su ethereum però già stanno nascendo alcune alternative che permettono di abbattere questa problematica tra l'altro i prossimi aggiornamenti anche di ethereum andranno proprio in questa direzione una breve introduzione sull'interfaccia di uniswap dove possiamo vedere come vado a inserire un ethereum magari da vendere che al momento dello screen era quotato circa 1700 dollari e vediamo come mi dice che se io eseguo quell'operazione ne riceverò circa 1709.35 attenzione però perché non è la cifra esatta che andremo a riscattare sul nostro wallet direttamente sul nostro wallet metamask ad esempio dobbiamo collegarlo adesso vediamo come si fa è estremamente semplice e mi indica sotto che c'è un minimo ricevuto se io vado a vendere il mio ethereum quindi vado a fare questo swap riceverò un minimo 1700 dollari 1700 usdt la stima è di 1709 pagherò un piccolo prezzo come vediamo di 0.005 0.005 ethereum per usdt e il lo scambio l'impatto di questo di questo scambio sarà inferiore allo 0.01 per cento quindi questo mi permette di pagare molto poco in termini di di fee e avere uno scambio molto preciso pagheremo poi una fee al liquidity provider allo 0.003 ethereum che nella pagina dei liquidity provider tra l'altro viene viene inserito possiamo inserire anche delle delle impostazioni particolari ovvero la tolleranza allo slippage lo slippage ci arriviamo tra un attimo e di fatto si tratta appunto di questa problematica del del cambio che non è estremamente preciso quindi posso inserire che la differenza massima deve essere tra il 0.1 per cento 0.5 per cento l'1 per cento della somma che va sto cambiando oppure poi posso anche decidere io abbiamo varie varie impostazioni come vediamo e tra l'altro dato che ad oggi la rite di ethereum è piuttosto carica di fatto si pagano molte fee quindi un costo importante in termini di gas fee quindi di commissioni e posso decidere che se lo scambio non viene effettuato quindi la transazione non viene approvata sulla blockchain entro un periodo di tempo posso anche annullarlo quindi possiamo settare slippage e tempistica massima cosa sono cose lo slippage è il problema dell'impermanent loss a cui è soggetto una persona che fa la liquidità di provider dunque i liquidi provider chiaramente sono esposti a un rischio di perdita dovuto all'impermanent loss che si verifica quando inseriamo come diciamo come liquidi di provider un asset che è volatile come bitcoin un ethereum eccetera possiamo mitigare parte del rischio inserendo uno scambio con una stable coin ad esempio perché quindi non abbiamo a disposizione due differenti cripto valute in termini di scambio che ovviamente sono soggette a grosse fluttuazioni con una stable coin da un lato avremo fluttuazioni inferiori diciamo chiaramente l'impermanent loss si verifica come indicato come stiamo leggendo quando di fatto andiamo a riprelevare le nostre valute e la differenza rispetto a quando abbiamo fatto il vincolo è piuttosto marcata e di fatto gli utenti effettuano i scambi sono esposti a un problema chiamato slippage che abbiamo visto poco fa e di fatto questo ci permette di cambiare di fatto la nostra liquidità la differenza tra l'acquisizione il prezzo di acquisizione e il momento in cui viene eseguita la transazione potrebbe esporci ad un rischio perché magari appunto stiamo scambiando ethereum come nell'esempio che abbiamo appena fatto magari c'è un dump momentaneo c'è un cambio di di prezzo in tempo reale e in quel momento la nostra transazione verrà eseguita e riceveremo qualcosa in meno adesso vediamo direttamente una piccola demo direttamente su uniswap in termini di funzionamento e vediamo come funziona quindi sull'atto pratico allora cambio un attimo e mi sposto sulla schermata di uniswap allora e successivamente come vediamo Antonio ci parla di curve che è un altro protocollo similare tra l'altro dunque passiamo a vedere uniswap allora sul sito adesso dovreste vedere uniswap quindi credo che ci siamo dunque allora questa è l'interfaccia principale possiamo anche vabbè ci viene indicato possiamo salvare app uniswap.org come segnalibro per averlo sempre a disposizione abbiamo anche proprio il sito uniswap.org dove troviamo tutte le informazioni dunque sembra abbastanza basico come funzionamento ci dice guarda che cosa vuoi fare vuoi fare uno swap tra una valuta e un'altra possiamo selezionare un token possiamo fare scambia quindi in inglese swap pool che corrisponde a riserva in italiano e poi troviamo altri adesso ci arriviamo e possiamo vedere altre informazioni riguardo alla possibilità di votare ad esempio se ci sono proposte sono state diciamo fatte alcune in precedenza a seconda di quanti unit deteniamo possiamo avere un peso nella votazione di eventuali cambiamenti sulla piattaforma quindi in ottica diciamo un po' più democratica non c'è un ente centrale che decide a prescindere in questo caso dipende da quanto deteniamo dunque io voglio collegare il mio wallet in questo caso sono proprio sulla schermata iniziale se ho a disposizione wallet metamask che installo come plugin su chrome è un procedimento abbastanza semplice se lo abbiamo già inserito andiamo avanti gli diamo l'accesso è stato abbastanza semplice non è stato molto complesso insomma a questo punto possiamo effettuare delle simulazioni quindi non ho a disposizione un ethereum posso comunque provare a mettere a disposizione un ethereum sulla piattaforma e vedere che tipo di cambio mi fa fare posso scegliere quindi come effettuare un cambio quindi cambiare un ethereum per un tot e non so voglio cambiare in one inch ave e così via abbiamo diverse opzioni a nostra disposizione per una questione come nell'esempio che ho fatto mettere una stable coin quindi posso scambiare per g usd quindi gemini dollar oppure dai ad esempio e vediamo che se voglio fare questo scambio chiaramente mi dice che non ho un ethereum purtroppo su questo wallet se lo ho a disposizione riceverei in cambio al cambio attuale chiaramente circa 1687 quindi tra l'altro l'ethereum dovrebbe essere salito da ieri a oggi e comunque 1687 circa dai il minimo che vado a ricevere è di circa 9 dai in meno 9 dollari in meno ho un impatto sul prezzo molto contenuto anche in questo esempio e adesso cerchiamo di vedere la differenza supponiamo di essere praticamente piuttosto possidenti come nell'esempio di Antonio poco fa che purtroppo era su testnet dobbiamo cambiare 100 ethereum vediamo che il controvalore stimato passa a 168 mila quindi lo stesso numero di prima praticamente moltiplicato per 100 chiaramente in questo caso la mia differenza tra il minimo ricevuto e quello che riceverò effettivamente adesso non è più di 9 dollari ma è molto molto più elevato quindi c'è una differenza più sostanziosa questo dipende anche da quanto è liquida cioè quanti ethereum e quanti dai sono depositati in questa liquidity pool quindi quante persone hanno messo a garanzia dai ed ethereum in termini di coppia di scambio la cifra è diventata molto importante in questo caso però è una pool piuttosto utilizzata quindi questo mi permette chiaramente anche se devo fare uno scambio estremamente grande quindi sto scambiando l'equivalente di 168 mila dollari pagando comunque una fee che possiamo quantificare a poco meno di 1000 dollari quindi piuttosto consistente perché però non si dissocia troppo in modo esagerato rispetto a quella che pagheremo su un exchange centralizzato però così lo sto facendo in forma completa e decentralizzata quindi solo su blockchain di fatto se andiamo a voler fare qualche scambio differente esempio io su questo wallet ho a disposizione dei CRO posso cercarli e vedere se questi token non sono presenti nella lista principale e importarli vedere se questi token sono già implementati in qualche altro modo quindi magari via CoinGecko come vediamo posso importare questi CRO ci avvisa chiaramente che facciamo tutto al nostro rischio e pericolo tra virgolette vado ad importarlo ho un balance in questo caso di 70 CRO su questo wallet di Mitamask posso di fatto poi andare a selezionare la possibilità di venderli e approvare la transazione quando vado a fare questa operazione mi uscirà come abbiamo visto prima questa però non è una testnet quindi una previsione delle fee che andrò a pagare a seconda della blockchain che sto utilizzando il protocollo che sto utilizzando pagherò e a seconda del carico in quel momento della blockchain che sto utilizzando andrò a pagare una fee differente in questo caso vediamo come i dati sotto siano completamente cambiati perché evidentemente CRO e DAI CRO DAI come coppia di scambio non è così liquida quindi non ci sono tantissimi DAI vincolati e CRO vincolati e di fatto c'è un utilizzo inferiore quindi a questo punto andremo a vedere come verrà fatto uno scambio differente quindi CRO verranno passati prima in USDT e poi passeranno in DAI io comunque riceverò DAI quindi è un processo tra virgolette automatizzato una volta che gli do il via e il mio prezzo quindi di soli 14 dollari di fatto avrà un impatto di quasi il 3% sulla liquidità totale quindi questo significa se io avessi a disposizione tanti CRO e DAI potrei metterli appunto in liquidità adesso vediamo come fare per appunto attingere a questa liquidity pool però se questa pool non verrà molto utilizzata chiaramente i profit quindi gli interessi che andrò a incassare saranno comunque inferiori in quanto come abbiamo visto prima c'è una liquidity provider fee quindi una fee che paghiamo a chi fa la liquidity provider che è variabile chiaramente a seconda del tipo di scambio e di quanto questo è grande vediamo l'ultimo iter relativo alla possibilità di aggiungere liquidità sempre dopo aver collegato il nostro wallet dove abbiamo appunto una totta di liquidità e possiamo creare un pair quindi una coppia di scambio oppure aggiungere liquidità mi viene detto quali sono i premi tra ovviamente i reward quindi i liquidity provider guadagnano 0.3% delle fee su tutte le transazioni quindi quanto più verrà utilizzata come ho spiegato proprio fa questa pool di scambio io tanto più andrò a guadagnare a seconda di quello che chiaramente vado a vincolare è tutto chiaramente anche collegato a quanto è grande la liquidità che metto sul totale come detto prima quindi quanto sarà grande la mia fetta di quella determinata torta della torta totale della liquidità a disposizione e chiaramente poi quando saranno maturati gli interessi esempio visto prima possiamo poi andare sulla liquidità che abbiamo fornito e riscattare il tutto per ogni operazione faremo uno smart contract come detto e quindi pagheremo delle fee quindi molto semplicemente se oggi magari facciamo un esempio con 1000 dollari di investiti e no 1500 investiti e un ethereum e andrò a pagare magari una fee di 15 dollari al cambio attuale mi conviene chiaramente attendere che sia maturato qualche interesse per recuperare quantomeno le due fee che andrò a pagare anche se non sappiamo in futuro se queste fee scendranno o saliranno dipende da quanto saranno cariche quanto sarà carica la blockchain e di fatto ottenere poi tra l'altro anche un guadagno quindi comunque un po' dovrò aspettare se voglio aggiungere una liquidità vado su vado di liquidità quindi anche in questo caso avendoli a disposizione seleziono cro quindi seleziono la quantità il mio massimo è 70 posso decidere che siano 50 quello ci interessa e allo stesso punto allo stesso modo dovrei avere comunque una stable coin o un'altra o il controvalore magari in ethereum di quello che stavo mettendo nell'esempio fatto magari potrebbe essere DAI che corrisponde sempre a un dollaro come sappiamo e quindi dovrò andare a vincolare magari me lo dirà stesso lui poi quanto è quale è il quantitativo 70 CRO abbiamo visto circa 14 dollari quindi dovrò inserire poi i DAI non li ho a disposizione come stiamo vedendo un tot di DAI tra l'altro come visto prima se oggi andiamo a a vincolare magari una cifra decente tra virgolette quindi 1000 CRO il controvalore in DAI che sarà circa 200 dollari avremo a disposizione praticamente tutta la pool che come vediamo è poco supportata in questo esempio se passiamo su ethereum che abbiamo visto chiaramente è molto molto più supportata l'input dovrà essere di un ethereum e allo stesso tempo al controvalore di oggi 1691 DAI e avrò a disposizione in questo modo meno dello 0,01% della pool quindi comunque vediamo anche in quest'altro parametro come coppia di scambio sia estremamente supportata nonché utilizzata molto probabilmente e perfetto Uniswap funziona in modo similare a quello che abbiamo visto prima basta agganciare il nostro wallet Mitamask Mitamask come precisato prima lo ripetiamo possiamo scaricarlo come plugin di Google Chrome e molto semplicemente lo scarichiamo se abbiamo a disposizione un seed quindi le parole per recuperare un wallet già esistente lo possiamo recuperare oppure ne creiamo uno nuovo avendo cura chiaramente disegnare le nostre chiavi private questo è un passaggio fondamentale presumo sia chiaramente chiaro a tutti però è sempre bene precisarlo detto questo ripassiamo sulla presentazione e Antonio ci parla anche di Curve.fi che di fatto è una piattaforma similare è un altro dei player che abbiamo a disposizione nella virgolette sì diciamo che Curve è un exchange decentralizzato come Uniswap però la sua forza è che è specializzato nello scambio tra stable coin fondamentalmente e Curve ha sfruttato il fatto che su blockchain e nella finanza decentralizzata e in genere si utilizzi molto cambiare tra stable coin quindi ad esempio cambiare DAI in USDC o cambiare USDT in SUSD o altre stable coin perché numero uno ci sono grandi attori che fanno arbitraggio su queste monete numero due l'utente normale potrebbe aver bisogno di utilizzare una stable coin piuttosto che un'altra e poiché non ha la possibilità di acquistare altre stable coin scambia le proprie stable coin per il controvalore di un'altra fondamentalmente quindi Curve che cosa fa? riduce lo slippage tra le sue coppie di liquidità quindi riduce lo slippage che c'è ad esempio nello scambiare USDC con USDT o SDC con DAI come lo fa? Lo fa praticamente molto banalmente cambiando proprio la curva con cui vengono creati diciamo queste coppie di liquidità poiché appunto sfrutta tutte quante le caratteristiche delle stable coin fondamentalmente altro rischio che si va altro rischio che si va diciamo quasi ad eliminare è l'impermanent loss per i liquidity provider poiché i liquidity provider non dovranno fare altro che depositare delle stable coin e che quindi per definizione dovrebbero restare ancorate al proprio prezzo e andare a guadagnare diciamo l'interesse sulle proprie stable coin e quindi fondamentalmente è una situazione in cui teoricamente si vince sempre poiché io ho dell'interesse su un valore che è già stabile di suo queste sono le schermate molto simili a quelle di Uniswap anche se la grafica di Curve è molto più spartana ieri ne parlavo con Michele gli dicevo proprio che c'è solamente una persona che ha sviluppato tutto quanto il protocollo e altra cosa che Curve sta provando a fare è fare scambi diciamo tra coppie qualsiasi quindi ad esempio Ethereum per USDC o Ethereum per USDT con Zero Slippage e lo sta facendo diciamo in collaborazione con altri protocolli della della finanza decentralizzata che diciamo gli stanno dando una mano per aprire quest'altra possibilità all'interno dell'ambito della finanza centralizzata come possiamo vedere fondamentalmente abbiamo varie pool in cui possiamo andare a depositare la nostra liquidità e ognuna diciamo ha un ritorno variabile anno come anche in tutte quante le altre piattaforme posso ritirare il mio interesse praticamente istantaneamente appena ne ho bisogno appena ne ho la voglia fondamentalmente e altra possibilità che dà Curve è quella di poter amplificare il proprio interesse attraverso un token secondario che diciamo ha un funzionamento un po' più complesso per questo diciamo eclisserei sul suo funzionamento perché ci vorrebbe una lezione intera solamente su quello Michele se vuoi puoi andare avanti su questo e altra cosa che ci insegna finanze centralizzate perché non c'è davvero nessun limite poiché la finanza decentralizzata apre diciamo le porte a sperimentazioni molto molto particolari ad esempio quella dei flash loans i flash loans sono praticamente dei prestiti che non sono collateralizzati quindi in pratica non ho bisogno di mettere collaterale a sostegno del mio prestito e in cui praticamente posso potrei teoricamente prendere in prestito tutta quanta la liquidità disponibile su una piattaforma come quella di compound o quella di ave o altre piattaforme di lending quindi ad esempio solamente per dare l'idea di qualche numero se al momento su ave ci sono bloccati 6 miliardi io potrei prendere in prestito tutti quanti 6 miliardi l'unica cosa è che dovrei restituire poi questi 6 miliardi all'interno di un'unica transazione pagando una piccola fee ad ave che non è neanche tanto esosa diciamo quindi la finanza decentralizzata dà la possibilità di fare sperimentazioni del genere e di diciamo aprire cose che nella finanza tradizionale non sono possibili appunto perché è trasparente c'è la possibilità di programmare l'asset e c'è la possibilità di di aprire diciamo varie porte a praticamente chiunque con una soglia di entrata praticamente pari a zero fondamentalmente ora vorrei parlare un po' dei rischi e degli svantaggi legati alla finanza decentralizzata perché ovviamente ci sono diciamo sempre dei drawback e uno dei rischi principali rischi che abbiamo visto soprattutto adesso con l'esplosione della finanza decentralizzata e con il fiorire di protocolli dal nulla fondamentalmente è che molti dei contratti su cui si basano queste piattaforme potrebbero essere malevoli se non sono verificati se non c'è diciamo un meccanismo di governance dietro potrebbero essere malevoli o potrebbero essere non verificati formalmente e quindi potrebbero essere oggetto di attacchi da parte di di terze parti anche perché adesso abbiamo visto prima all'inizio della presentazione c'è una grande liquidità bloccata nella finanza decentralizzata bloccata negli smart contract che rendono possibile tutto quanto questo e quindi diciamo gli occhi di attori malevoli sono sempre puntati su queste piattaforme altro rischio o svantaggio no scusami Michele torna prima ok grazie altro rischio o svantaggio è l'altra volatilità dei tassi di interesse dei valori delle criptovalute sottostanti quindi dei collaterali così come un rischio potrebbe essere l'arbitraggio parlavamo prima dello slippage per i uniswap fondamentalmente molte delle mie transazioni potrebbero non andare a buon fine poiché Ethereum ha un modo di funzionare che si basa appunto sulle sulle fii sui costi di transazione e quindi ad esempio una persona che è più interessata a fare un utente che è più interessato a fare un trade al posto mio potrebbe pagare delle fii più alte e diciamo andare avanti saltare la fila per prendere praticamente il mio scambio fondamentalmente altro svantaggio grande che si sta che ultimamente diciamo si portano sul gruppone tante tante blockchain sono i costi di transazione elevati e in particolar modo nel caso di Ethereum le gas fee però questo diciamo si sta cercando di mitigare questo svantaggio attraverso la nascita di vari protocolli e questi protocolli sono appunto quelli che vediamo nella prossima slide nel layer 2 infatti su Ethereum stanno nascendo questi layer 2 che sono praticamente una soluzione alla scalabilità di Ethereum e quindi una soluzione alle poche transazioni che si possono effettuare e al grande costo di queste transazioni poiché c'è una domanda altissima però c'è diciamo questa domanda non può essere non può essere soddisfatta tutta poiché il protocollo di consenso è quello che è e quindi fondamentalmente su questi layer 2 che sono un livello secondario appunto alla blockchain principale su cui si possono fare delle transazioni a basso costo a un costo bassissimo ZK Sync che è una dei layer 2 di Ethereum ha provato questa cosa con un exchange decentralizzato in particolare proprio Curve e si è visto che le transazioni costavano un centesimo due centesimi a transazione quindi posso fare uno scambio con un centesimo in transazione che diciamo è meno delle fee che ci richiedono Binance e Co e questi protocolli hanno la particolarità di ereditare la sicurezza dalla blockchain principale poiché tutte quante le transazioni che vengono effettuate su queste blockchain secondarie diciamo verranno poi verificate attraverso la blockchain di Ethereum creando una sorta di pacchetto e risparmiando quindi sul numero di transazioni che vengono effettuate sulla chain principale in questo caso Ethereum tutte e tre si basano tutti e tre i protocolli in particolare Optimism ZK Sync e Loopring si basano sul concetto di roll up che è praticamente questo concetto di prendere tante transazioni e in qualche modo comprimerle in un solo pacchetto che verrà poi inviato alla chain principale e che cambierà poi lo stato della chain principale in particolare con ZK Sync quello che vediamo è che tutto quanto l'outcome di queste transazioni quindi tutto quanto il risultato di queste transazioni è verificabile criptograficamente e quindi è molto più veloce di piattaforme come quella di Optimism in Optimism però c'è la possibilità di avere tanti validatori e quindi una decentralizzazione più grande naturalmente che tutto fatto in modo ottimistico sorvolerei diciamo su tutti quanti i dettagli tecnici tutte e tre stanno preparando i propri wallet in particolare Loopring è già diciamo attivo quindi si può scaricare il suo wallet sui vari store Android e iOS ZK Sync sta andando avanti con lo sviluppo e dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi così come Optimism che sta facendo molto rumore anche tra diciamo in tutto quanto l'ambiente però la particolarità è che con Loopring e ZK Sync c'è la possibilità di trasferire i propri fondi diciamo di fare tutte quante le proprie transazioni sul livello 2 solamente una volta che un wallet secondario è stato è stato creato sulla loro blockchain nel caso di Optimism invece abbiamo una copia uno ad uno dello stato della blockchain di Ethereum su una blockchain secondaria che è molto più veloce che costa molto di meno e che ci permette di fare molte più transazioni al secondo detto questo io avrei chiuso se ci sono domande se qualcosa non era se qualcosa non era chiaro vi prego di fare domande anche perché capisco che sono abbiamo anche la slide finale anche perché capisco che sono tantissimi argomenti tutti quanti in una sola presentazione sì se ci sono domande chiaramente siamo qui abbiamo toccato differenti frangenti la finanza decentralizzata quindi possono sembrare semplici come abbiamo visto si tratta principalmente come abbiamo visto di scambiare o di fornire liquidà richiedere prestiti a seconda delle necessità il perno principale di tutto questo meccanismo e che appunto possiamo effettuare i nostri scambi in forma un po' più anonima e quindi senza fare dei controlli senza iscriverci con i documenti eccetera e come ha citato Antonio per la questione dei prestiti oggi se avessi necessità di un prestito oltre a pagare magari anche degli interessi più alti rispetto a quelli che trovo sulla finanza decentralizzata su piattaforme di quel tipo dovrei fornire delle garanzie dovrei non so fornire documenti garanti e cose di questo tipo mentre con questo tipo di tecnologia possiamo fare la richiesta mettendo chiaramente in collaterale a garanzia una parte del nostro wallet e in questo modo in pochi minuti facendo tutta l'operazione faccio uno smart contract e ricevo la liquidità pronta per essere utilizzata quindi l'esempio classico che facevo ieri ci sono ad esempio alcune carte che permettono di spendere anche in euro per avere collegati a servizi di criptovalute magari ho a disposizione un ethereum scendo questa sera e devo pagare una spesa e ho finito i soldi sulla carta perché magari ho dimenticato tengo questo ethereum nel mio portafoglio vado nell'app faccio un piccolo prestito di 100-200 euro che ho in tempo reale a disposizione sulla mia carta metto a garanzia questo ethereum l'interesse anno sarà del 3-4% forse anche di meno a seconda di una serie di a seconda della piattaforma e delle condizioni comunque magari mi servivano questi 100 euro avevo un ethereum da mettere a garanzia le ho presi le ho spesi ho chiuso la transazione la giornata il giorno dopo ricarico i 100 euro restituisco il prestito pagherò pochi centesimi perché di fatto è il giorno dopo che mi mette di estinguere ma se fossimo nell'ottica bancaria a meno che di non avere una carta di credito quindi ci serve chiaramente un tipo un conto corrente che ha questo tipo di servizio e su cui però se andiamo fuori con le spese andiamo a pagare degli interessi ben superiori in forma istantanea anche se abbiamo raggiunto il cap della carta eccetera con le nostre valute le mettiamo a garanzia e possiamo avere un'opzione in più quando abbiamo necessità con due tap sul telefono e una connessione a internet se fondamentalmente la potenza di questi protocolli è proprio questa che c'è un'accessibilità molto molto facile cioè è molto facile accedere a questi protocolli ed è molto facile avere della liquidità è molto facile diciamo non fermare la propria liquidità a ok la tengo solamente ferma nel mio wallet ma mettere al lavoro fondamentalmente la propria liquidità per diciamo far diventare cioè dare un'utilità reale poi diciamo a queste alle criptovalute o in generale a tutti quanti gli asset che possediamo su blockchain ok c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ci rendiamo conto ci stavamo scrivendo in una nostra chat che non era proprio elementare come magari qualcuno poteva pensare e magari l'invito è che in una versione diciamo che pubblicheremo Michele o Antonio potrebbero fare ancora maggiore chiarezza in una fase iniziale su che sono stablecoin fare proprio un piccolo una piccola introduzione ancora più semplice proprio per i neofiti quindi ha maggior ragione se avete domande grazie se avete domande che qualcosa non vi è chiaro molto questo verrà registrato quindi ve la potete rivedere e studiare a casa ma se avete domande proprio elementari da dove parto come come sono i bitcoin come mi procuro le stablecoin cosa consigliate di fare per iniziare quali sono le cifre minime per iniziare magari magari proprio su questo diciamo su queste semplici domande sia Michele che Antonio potrebbero dare un commento se siete d'accordo o altrimenti alzate la mano e fate domande si aggiungo brevemente una domanda di Antonio buongiorno Antonio faccio una piccola precisazione ieri confrontandomi con Antonio mentre preparavamo il tutto chiaramente la finanza decentralizzata è un argomento già un pizzico più avanzato quindi si presuppone che chi si approccia anche se comunque ho fatto la precisazione di perfetto fai delle prove sei super esperto fai delle prove con un dollaro cioè cerca di capire com'è il meccanismo poi magari se ne tieni 100 200 1000 2 miliardi eccetera eccetera poi magari lo fai prima delle prove e cerchi di capire come funziona il meccanismo e vabbè cercheremo di semplificarlo ulteriormente però di fatto abbiamo dato una panoramica hai dato la parola ad Antonio? ciao ragazzi buongiorno ciao Antonio fammi domande che non so no no questa è una domanda che secondo me sai e magari potete rispondere pure in sinergia tu e Antonio io mi sono avvicinato da pochissimo a questo ambito praticamente io non ho ancora ben capito la differenza anche per questo volevo seguire questo meeting non ho capito ancora bene la differenza tra servizi centralizzati tipo che ne so CryptoEarn che permette di guadagnare comunque una percentuale da un importo che appunto si mette in prestito si blocca e appunto servizi come Compound che permettono di fare la stessa cosa cioè non ho capito qual è la differenza e se uno è più redditizio di un altro insomma vorrei capire meglio ok adesso te lo spiego poi magari se Antonio vuole aggiungere qualcosa mi corregge eccetera allora torniamo un attimino sulla slide che dovresti sempre vedere che è di Curve per esempio ok la vedi? esatto sì proprio io volevo proprio parlare appunto di questo Curve perché Curve era basato sulle stable coins che praticamente è quello che faccio ok allora Crypto.com come abbiamo visto ti permette di allora sulle stable coins ma anche altre piattaforme di lending ti permettono di mettere che ne so mille dollari mille USDT e ti danno il 10% annuo su Curve dobbiamo fornire una liquidità già cambia il tipo di approccio come ha detto Antonio tu puoi anche dare una liquidità in due stable coins però come puoi vedere dalla slide chiaramente a seconda del tipo di liquidità hai delle percentuali completamente diverse le percentuali chiaramente variano come ho detto prima perché quanta più gente mette la propria liquidità in forma proprio monetaria lì sopra tanto diventa più piccolo o più grande se poi viene tolta se queste persone riprelevano e se le persone poi utilizzano la pool quindi l'API la prima differenza è estremamente variabile sulla finanza decentralizzata è facile che lo trovi più alto però oggi potrebbe essere 70% perché è stata appena lanciata la pool e viene utilizzata magari domani potrebbe andare al 6% perché magari noi non siamo non abbiamo a disposizione 100.000 USDT e 100.000 DAI per esempio e di fatto abbiamo una porzione più piccola di tutta la di tutta questa data crypto.com poi è centralizzato sulla sulla finanza decentralizzata quindi su curve per esempio è decentralizzato quindi tu fai le operazioni con il wallet Metamask quindi ci sono degli smart contract dove c'è scritto che un certo codice 16 maio ha fatto quel determinato contratto non c'è scritto Antonio Alvino ok? quindi se tieni se hai a disposizione 100.000 USDT verrà indicato che qualcuno ha fatto quell'operazione ma sarà molto molto più complicato andare poi a vedere chi era effettivamente il titolare bisognerebbe fare un'indagine estremamente approfondita per ricostruire tutti i nuovi modi quindi estremamente variabile e allo stesso tempo più anonimo sulla finanza decentralizzata su Crypto.com che è centralizzato tu dici perfetto noi ti diamo il 10% e tu ricevi il 10% con interessi settimanali tra l'altro Crypto.com come sai ti dà sia la possibilità di fare flessibile quindi tu che inserisci la liquidità e puoi prelevarla quando vuoi se invece la blocchi per un certo periodo di tempo predefinito che proprio non puoi toccarla ti paga di più qui invece è come se fosse tutto flessibile quindi inserisci quando vuoi e togli quando vuoi ogni volta che fai un'operazione paghi una fee una gas fee che come abbiamo detto è variabile e mentre su Crypto.com invece non questo pagamento non viene fatto lì ricevi gli interessi settimanalmente e invece qui puoi riscattare tutto in qualsiasi momento vedendo però come nell'esempio di Antonio capire come varia il tuo balance quando viene erogato appunto a seconda delle operazioni fatte eccetera l'interesse ci siamo ancora qualche dubbio vai no no sì ci siamo è tutto è chiaro comunque ci tenevo a precisare comunque su Crypto.com anche quando per esempio acquisti gli USDC cioè tu comunque paghi una percentuale cioè se io per esempio ho gli euro per esempio ah sì se vuoi convertirli sì eh se io ho 100 euro e voglio acquistare il corrispettivo di 100 euro in USDC mi danno mi danno meno mi danno meno soldi diciamo cioè tipo ho calcolato che si prendono ah sì 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 però lì entriamo in un altro discorso perché tu lì sopra è chiaramente io conosco un pizzico Crypto.com se lo fai dall'applicazione paghi lo spread quindi paghi un po' di più di commissione insomma eh viceversa se lo fai dall'exchange pagherai delle commissioni inferiori attenzione però perché tu hai messo nel discorso un'ulteriore operazione perché tu hai detto no io ho 100 euro e voglio USDC ok quindi non stai non hai già USDC devi fare un'altra operazione dico per ogni operazione che fai sia sulla DeFi sia sul sull'exchange centralizzato pagherai una commissione e poi ovviamente nell'ottica di dollari teniamo presente che stai passando euro in dollari e quindi sei soggetto se stai facendo un investimento un magheggio no qualsiasi cosa sei comunque ehm esposto al rischio di cambio quindi se oggi un dollaro vale cioè un euro vale un dollare e venti ricevi poco meno di 120 USDC USDT quelli che siano dai quello che vuoi tu e ovviamente se il cambio ovviamente va a variare magari tu guadagni da qua un anno il 10% su 120 dollari quindi nei 132 però magari l'euro ha guadagnato il 5% rispetto al dollaro non sono cifre esagerare nell'arco temporale di un anno quindi tu magari li riconverti in euro perché ti vuoi comprare qualcosa avrai fatto il 5% di profitto però il cambio non ti sarà venuto in conto ogni operazione di questa pagherai comunque delle commissioni chiaramente centralizzato o non centralizzato sul decentralizzato puoi operare solo con i wallet quindi devi avere già USDT in quanto che io ricordi al volo non abbiamo ancora una stable coin molto utilizzata più che altro ancora dall'euro Antonio se vuoi dire qualche cosa ce n'è una sola che si chiama tipo EURS o qualcosa del genere però in ogni caso tipo la questione dei tassi di interesse o comunque di utilizzare piattaforme decentralizzate o piattaforme centralizzate poi sta fondamentalmente a te nel senso che comunque diciamo che i vantaggi delle piattaforme decentralizzate e che sono tutte quante ancorate sono tutte quante aperte sono tutte quante trasparenti e sai benissimo da dove vengono quali sono i meccanismi che ci sono dietro all'inserire la tua liquidità all'interno di una piattaforma del genere perché hai il codice hai i audit hai tutto quanto trasparente su blockchain lo puoi vedere e soprattutto anche tipo se prendi una chain come quella là di Ethereum fondamentalmente dare liquidità ad una chain come quella di Ethereum o ad un protocollo come quello di Curve è più vantaggioso dal punto di vista che la tua liquidità viene utilizzata molto di più e soprattutto sai come viene utilizzata anche perché vediamo che i tassi di scambi cioè diciamo il numero di scambi che viene effettuato su piattaforme del genere decentralizzate è sempre più è sempre più alto e sta crescendo sempre di più e quindi diciamo in proiezione quello che converebbe fare è se almeno secondo il mio punto di vista diciamo è un trade off di tutte quante le cose tanta trasparenza zero fiducia perché non devi fidarti diciamo delle persone devi fidarti del codice devi fidarti delle piattaforme e tanto tanto utilizzo cioè quindi ci sta tantissimo utilizzo di queste piattaforme e quindi c'è un ritorno dell'interesse che anche se tutti quanti diventiamo liquidi di provider ci sono sempre tantissimi scambi ci sono di continuo scambi su curve o su altre piattaforme decentralizzate come Uniswap eccetera eccetera tra l'altro con la versione 3 di Uniswap che dovrebbe uscire a breve ci saranno diciamo delle cose che puoi fare che altre piattaforme centralizzate non possono permetterti di fare e soprattutto il fatto di essere in una piattaforma decentralizzata ti dà la possibilità di poter ancorare tutti quanti i protocolli nel senso io potrei fare liquidi di provider su fare da liquidi di provider su Uniswap prendere i token che derivano da quella da quella liquidità io vado a fare vado ad esempio 100 DAI e 0.1 Ethereum per fare un esempio a Uniswap il token che mi verrà dato da Uniswap io posso prenderlo e fare altri interessi su un'altra piattaforma quindi secondo me il vantaggio è proprio questo delle piattaforme decentralizzate non sono chiuse sono trasparenti sono tutte quante collegabili tra di loro perché il codice aperto le API sono aperte eccetera eccetera quindi diciamo semplicemente si dovrebbe cambiare il paradigma e andare sempre di più verso un futuro del genere anche se i ritorni possono essere variabile eccetera eccetera perché comunque tutta quanta è una sperimentazione però diciamo la realtà sta dando comunque tipo ragione alla decentralizzazione quindi ripeto cioè le piattaforme centralizzate credo comunque che siano vantaggiose perché avvicinano gli utenti a teorie cioè a questo modo di vedere però diciamo con la finanza decentralizzata appunto si vuole decentralizzare e avere tutte queste qualità che ci sono in protocolli del genere grazie mille grazie mille prego 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 Marco eccomi ragazzi buongiorno e vabbè come prima cosa grazie insomma per il contenuto che avete condiviso e no più che altro la mia più che una domanda voleva essere un attimo un incipit per una per una riflessione perché ora vabbè è chiaro che comunque DeFi il concetto di DeFi deve essere comunque collegato alla riduzione o all'eliminazione totale di intermediari nelle operazioni e questo comunque è chiaro ora come dire come vi dicevo non è proprio una domanda ma appunto una riflessione volevo un attimo capire se secondo voi che sicuramente insomma avete maturato un'esperienza maggiore rispetto ad esempio a me o comunque ad altre persone presenti all'interno di questo meeting che possibilità ci possono essere sul lungo periodo che magari dei player grossi dei player importanti possano mettere non dico possono mettere mano ma comunque possono attenzionare la finanza decentralizzata faccio un parallelo con quello che succede con il mondo ad esempio delle criptovalute ma insomma anche su questo lo sapete meglio di me su Bitcoin ci mettono tutti quanti l'occhio o comunque tutti quanti al momento opportuno dicono che comunque bisogna controllarlo bisogna in qualche modo metterci mano bisogna ufficializzare nell'utilizzo penso ad esempio all'ultima dichiarazione della Deutsche Bank ad esempio giusto per dirne una che non si può fare a meno di non valutare ovviamente le evoluzioni di Bitcoin eccetera eccetera quindi la riflessione è appunto questa possiamo tipo che ne so valutare sul lungo periodo la possibilità che anche la finanza decentralizzata possa attirare le attenzioni di grossi player oppure oppure che poi rischiamo di perdere effettivamente quello di cui abbiamo le qualità che sono state decantate nel meeting quindi la decentralizzazione il concetto di fiducia legato alla qualità del codice eccetera quindi giusto questo punto di vista infatti la questione è proprio quella cioè nel senso che tutte quante queste piattaforme avranno prima o poi a che fare soprattutto in America oltreoceano avranno prima o poi a che fare con le banche centrali eccetera infatti tipo in questi giorni tipo Compound ha dovuto presentare il proprio prodotto a vari player diciamo governativi in America però la questione è che comunque appunto è una piattaforma aperta a meno che non si non si cominci proprio una caccia alle streghe diciamo non credo che non credo che diciamo questi attori possano in qualche modo tagliare via qualche qualità della finanza decentralizzata poi ovviamente non sappiamo mai quello che succede però diciamo che il grande utilizzo di queste piattaforme è proprio quello e credo sarebbe distruttivo da parte di attori centrali provare a fermare una cosa del genere anche perché quello che si vede è che tante 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 persone si stanno avvicinando a questo mondo io penso ad esempio a me non so anche Michele pensate sempre a me che non ho mai avuto un conto in banca però c'è un conto sulla finanza decentralizzata tante persone si spostano diciamo verso questo modo di pensare perché è più semplice più accessibile decentralizzato e tanti di questi ideali diciamo stanno entrando nelle teste delle persone un po' come era tipo l'ideale dell'open source cioè tanti di questi dati stanno entrando nelle teste delle persone quindi in un modo o nell'altro sopravviveranno credo poi non lo so sono comunque previsioni che si fanno sulla questione delle previsioni sicuramente dobbiamo stare attenti perché non abbiamo la spera di cristallo però sono assolutamente d'accordo sul fatto di allineare la medesima logica a quello che poi succede nel mondo dell'open source nel senso di scrittura del codice e va bene ok insomma questo questo era il mio il mio contributo anche perché non si può fare a meno di quello nel senso se io scrivo lo smart contract è comunque pubblico su blockchain nessuno può nascondere il funzionamento quindi a proposito di smart contract un'altra domanda ma sempre limitatamente a quella che è la mia conoscenza degli smart contract ma sono tutti quanti etn-based cioè almeno quelli che ho visto sono tutti quanti basati più o meno su cioè su una virtual machine che è molto molto simile a quella la di ethereum nel senso ok sì sono praticamente tutti quanti ethereum based o sono delle fork di ethereum che che fanno quello ok grazie grazie un po' prego prego lorenzo ciao a tutti buongiorno allora io avevo un paio di domande una rispetto a se ci fossero dei progetti che cercano di regare la finanza decentralizzata anche al mercato azionario nel senso perché questo ti permette di capitalizzare sostanzialmente avere dei loan istantanei tutta una serie di cose assolutamente utili però esclusivamente nel mondo cripto ora ci sono delle piattaforme o dei progetti che cercano di connettere i due ambiti non lo so magari ricreando degli etf su blockchain che producano l'andamento di determinati titoli azionari perché quello sarebbe comunque uno sviluppo interessante perché permetterebbe di poter disporre di quella liquidità creando un collegamento fra i due mondi e poi cosa ne pensate in generale della finanza decentralizzata e delle prospettive che questa sulla binanza smart chain che pecca di decentralizzazione al momento però ha fii molto basse da questo punto di vista può essere anche un modo per iniziare a interagire con questo mondo con questo sistema per chi non può pagare tutte le fii relative ad ethereum mi sentite? riuscite a sentirmi? si vabbè lascio a te perché abbiamo fatto lo stesso discorso ieri sera no forse abbiamo perso per un attimo Antonio a me mi sentite? si si Michele si appena Antonio si ricollega come detto abbiamo discusso proprio di questo eccolo qui allora dunque c'è qualcosa attualmente in sviluppo Antonio ce lo può dire in modo diciamo più specifico per quanto riguarda repliche di mercato azionario ma siamo in fase embrionale e per la binanza smart chain che però è centralizzata come hai detto vabbè lascio la parola direttamente a lui perché appunto come hai detto è stato oggetto di discussione mentre impostavamo il tutto allora per quanto riguarda i protocolli di cui parlavi tu quindi che provano a riportare diciamo degli strumenti finanziari della finanza tradizionale su blockchain sì ce ne sono ce ne sono svariati che provano diciamo a riflettere il mercato azionario penso c'è un protocollo che adesso non ricordo come si chiami però è facile trovarlo che ad esempio durante diciamo tutta quanta l'ondata che c'è stata con la questione di gamestop eccetera eccetera ha lanciato proprio il suo protocollo che era in lavorazione da tanti e tanti anni che fa proprio questo cioè crea un mercato azionario su blockchain che riflette uno ad uno il mercato azionario tradizionale e quindi praticamente chi vuole partecipare a questo mercato deve dare sempre la propria liquidità quindi le proprie azioni però è molto centralizzato cioè nel senso prendi il tuo portafoglio di investimenti lo lo delighi ad una terza persona questa terza persona utilizza il tuo portafoglio di investimenti per far fare scambi su blockchain di queste di queste azioni e quello che ci guadagni tu sono praticamente gli interessi sugli scambi e comunque hai sempre a disposizione le trazioni in un modo o nell'altro un altro un protocollo prova a fare diciamo quelle che si chiamano le opzioni le opzioni binarie eccetera eccetera però lo fa sempre sulle criptovalve quindi hai la possibilità di acquistare opzioni su ethereum su bitcoin su valore di ethereum su valore di bitcoin ed altro per quanto riguarda invece la 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 blockchain di binance quella l'absc l'absc esatto è lo stesso discorso di è lo stesso discorso di con cui ho risposto Antonio sì Antonio che fondamentalmente è comunque una una chain che è praticamente centralizzata perché non ci sono validatori esterni penso solamente a quello che è successo quando c'è stato un hack sulla sulla blockchain di binance e sono stati bloccati tutti quanti i ponti verso ethereum questo diciamo che non non fa onore diciamo alla decentralizzazione però in ogni caso ripeto cioè quelle piattaforme servono per avvicinare le persone a a questo mondo decentralizzato però diciamo dovrebbero spingere poi a veramente andare verso la decentralizzazione e non a restare nel proprio ecosistema chiuso perché vuol dire appunto che non ci sono incentivi reali che diciamo il valore si sta creando da nulla anche perché tanti progetti su bsc sono solamente la copia di altre di altre blockchain sono praticamente codici averti che vengono riproposti sulla sulla blockchain e spinge molto su questa cosa delle fee che è vero è una grande pecca di Ethereum ad esempio però in generale è la domanda cioè il fatto che le fee siano così alte è solamente lo specchio del fatto che Ethereum viene utilizzata tantissimo e viene richiesta tanto fondamentalmente ok ok ti ringrazio prego c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda o qualche chiarimento sulle cose che abbiamo discusso io se non ci sono altre domande chiederei a Marco e Antonio di fare un piccolo recap semplicemente su che cosa loro farebbero se avessero un piccolo capitale oggi a partire proprio da mettiamo euro dollari o al massimo bitcoin quale percorso seguirebbero se hai bitcoin non venderli prova ad avere altro modo per acquistare diciamo tutte quante le coin che hanno a che fare con la finanza decentralizzata però in ogni caso esistono vari indici che diciamo sono proprio alla portata di tutti quanti che mirano proprio a questo fondamentalmente penso Paolo noi ne abbiamo parlato da DPI che è un progetto che in pratica mira a racchiudere tutti quanti i progetti con la maggiore liquidità i progetti con le maggiore prospettive in un solo token e che quindi con una sola transazione acquisto praticamente dieci progetti e quindi acquisto un portafoglio di dieci progetti che hanno un futuro diciamo nella finanza decentralizzata oppure farei lending fondamentalmente cioè acquisterei delle stable coin che sono acquistabili sui vari exchange sono acquistabili su Coinbase sono acquistabili su Binance sono acquistabili anche su piattaforme che ti fanno fare solamente onboarding con un tuo protocollo e quindi sì farei questo o acquisterei un indice perché è difficile andare diciamo indietro a tutti quanti i progetti oppure metterei in lending le mie le mie criptovalude se voglio mantenere quale sarebbe un importo minimo che consiglieresti per iniziare considerando il discorso di fee a parte un test beh abbiamo detto con poche euro uno fa dei test magari anche non necessariamente sul blockchain mainnet magari se c'è possibilità anche sul blockchain di test ma una volta che uno decide di partire con una cifra iniziale considerandola il costo alto delle fee di transazione adesso su Ethereum quale potrebbe essere un giusto compromesso secondo te è pensare a ok voglio fare un conto di risparmio fare non lo so il 40% di quel conto di risparmio e metterlo su Ethereum perché fondamentalmente cioè bisogna comunque essere ok non voglio rischiare tutto quanto il mio capitale non voglio aprire un conto di risparmio perché casomai non ci si fida di tutta questa decentralizzazione di tutte quante queste piattaforme però tipo per come ho ragionato io il conto di risparmio che avrei fatto presso la banca presso i vari enti centrali lo faccio con lo faccio con Ethereum lo faccio con queste piattaforme se vuoi essere conservativo allora fai un 40% di quello aggiungiamo che sono opinioni e non sono consigli finanziari ovviamente cioè nel senso che la strategia è proprio quella la questione è proprio il fatto che queste piattaforme mirano a cambiare il modo in cui si ragiona quindi prima ne parlavamo con Michele tipo ieri il fatto è proprio si dovrebbe iniziare a ragionare in termini se diciamo se ci si vuole avvicinare a questo mondo si dovrebbe iniziare a ragionare in termini di collaterale di criptovaluta di quello che si possiede dal punto di vista di Ethereum e Bitcoin poi gli USDC vengono generati proprio dal lavoro di queste criptovalute fondamentalmente quello che prima era il mining adesso è diventata la finanza decentralizzata praticamente però se devo dire una cifra io non saprei con quale cifra cominciare dipende comunque dalla disponibilità eccetera quello è estremamente soggettivo chiaramente è soggettivo comunque dunque Antonio scusami quindi tu consiglieresti di non consiglio niente no consideri consideri che sia meglio comunque tenere degli Ethereum piuttosto che avere delle stable coins che comunque gli Ethereum sono comunque molto volatili no allora io non sarei capace di non sarei capace di dare consigli su questo perché io non mi interesso di finanza ieri lo dicevo a Michele io non ne capisco niente di finanza fondamentalmente cioè mi interessa Ethereum per tutto quanto quello che c'è dietro però di finanza non mi interesso quindi non saprei neanche rispondere a queste domande non 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 sono la persona giusta a cui chiedere diciamo sì chiaramente lui sa che Ethereum è molto più volatile nel nel suo esempio molto sul lungo termine probabilmente si riferiva a un ITER futuro nell'ottica appunto di qualche anno non sulle stable coin chiaramente è come se ci stessimo comprando dei dollari che però possiamo utilizzare come abbiamo visto per ottenere una serie di di ritorni in ottica annuale in termini di interessi quindi siamo soggetti in Europa a rischio di cambio perché noi sotto paghiamo in euro insomma e chi è americano chi ovviamente magari detiene anche persone che hanno riserve in dollari che il dollaro è comunque la riserva monetaria mondiale per il momento quindi è la prima valuta quella di esperimento poi potremmo parlare per ore relativa a eventuali previsioni che ovviamente non siamo super skillati per fare quello a cui si riferiva Antonio era anche un cambio di mentalità perché di fatto ragionare in Ethereum per esempio è completamente diverso a dire perfetto oggi c'ho 100 USDT e lì richiede secondo me uno studio approfondito e chiaramente una riflessione interna su relativamente delle proprie disponibilità come appunto indicato no esatto sì perché comunque si parlava di conto risparmio quindi io subito ho pensato se io voglio fare diciamo un conto risparmio io non sto facendo un conto di investimento e quindi praticamente io non sono disposto a rischiare troppo i miei risparmi ma appunto è un conto risparmio che dicevo come alternativa ad aprire un conto deposito bancario fare un conto risparmio in criptovalute quindi per questo diciamo vabbè come fare un piano di accumulo io non lo farei in Ethereum perché è troppo volatile sì può aumentare come può anche diminuire quindi volevo capire questa questa cosa che aveva detto Antonio che lui lo farebbe in Ethereum cose che no nel senso che cioè utilizzerei nel senso che utilizzerei i protocolli che girano su Ethereum cioè non come valuta non come valuta ok perfetto capito quindi per esempio Curb che si basa su Ethereum esatto ok grazie considerando sempre che ognuna di queste operazioni che hanno mostrato i ragazzi o per tutte quelle che hanno degli smart core più complessi e che quindi richiedono costi fili transazione più elevati hanno sempre bisogno di un tosto tanti in Ethereum Ethereum e TH vero e proprio quindi Paolo scusami in Ethereum allora io vi seguo vi ascolto però per il momento vado un attimino mi fermo un attimino ok prego continuo ad ascoltare voi ciao Michele grazie grazie e quindi dicevo alla fine il sottostante cioè le file devi sempre pagare in Ethereum quindi un minimo di ETH lo devi tenere disponibile perché io diciamo più o meno mi orienterei sul 10% di quello che tu decidi di avere in stablecoins o in altre diciamo in altri token che girano sulla blockchain di Ethereum quindi non puoi esimerti da avere un minimo di Ethereum altrimenti non funzionerebbero proprio i protocolli sì esatto cioè diciamo di serve poi ovviamente tipo monete asset come Ethereum come Bitcoin sono speculativi proprio per quello perché non si possono fare ragionamenti del genere non si possono fare piani di accumulo non si può fare tutto quello che la finanza tradizionale ci è abituata a fare con i nostri risparmi diciamo cioè la finanza centralizzata diciamo che incontra sia la domanda dal punto di vista va incontro sia la domanda dal punto di vista di una finanza meno speculativa una finanza più votata risparmio eccetera eccetera sia ad una finanza più speculativa in cui se è uno speculatore vuoi degli asset che ti fruttino un tot praticamente vuoi speculare sui due asset Giovanni prego ciao buongiorno volevo chiedervi una cosa quando si parlava tipo di uniswup avete fatto il discorso che una transazione non può non andare a buon fine la mia domanda era nel momento in cui io faccio partire questa transazione e non va a buon fine che cosa succede perdo la fee ci sono si perde si sono allora praticamente perdi la fee in ethereum che avresti pagato al miner fondamentalmente però quella fee diciamo cioè quella fee che hai pagato a diciamo il 10% della fee che avresti pagato per l'intero scambio perché in pratica tecnicamente quello che succede è che all'interno del codice vai a finire in una riga in cui controlli se lo scambio andrebbe a buon fine e questo viene fatto molto presto nell'esecuzione del codice e quindi paghi meno operazioni e praticamente quindi se il tuo scambio non andrebbe a buon fine in futuro fondamentalmente quello che succede è che lo scambio viene revertato viene annullato e paghi praticamente il 10% della fee che avresti pagato facendo lo scambio fondamentalmente però diciamo i tuoi fundi sono tutti quanti restano tutti quanti nel tuo portafoglio perché il codice non arriva ad eseguire lo scambio fondamentalmente ok grazie mille prego volevo fare una piccola riflessione insieme ad Antonio proprio il discorso costi di fee perché ne parlavamo proprio con Antonio in alcune discussioni passate chiaramente questi smart contract complessi che fanno diverse operazioni come avete appena sentito possono significare una conseguenza cioè possono significare una serie di fee consecutivi che possono arrivare a cifre anche importanti quindi vuoi Antonio dare una piccola anche se magari su questo potremmo fare un piccolo o una piccola si potrebbe inserire nella presentazione in una futura versione o mai la versione che registreremo anche un piccolo accenno a questo a dei diciamo dei tool degli strumenti che consentano prima di fare una transazione di capire quali potenziali a quali potenziali fee andremo incontro e anche capire se è il momento giusto a livello di saturazione della rete blockchain se è il momento giusto per fare un'operazione che ci costerebbe un certo quantità di fee vuoi dare un accenno su questo? sì certo nel senso non voglio dilungarmi troppo perché questo è davvero grande come argomento ci sono anche altre due domande ok però in ogni caso ci sono degli strumenti che permettono di guardare quanto è cioè permettono di vedere quanto la la blockchain è saturata se ci sono tante transazioni se il prezzo del gas è alto eccetera eccetera qua stiamo parlando sempre di di Ethereum almeno e ovviamente uno dovrebbe utilizzare questi dovrebbe utilizzare questi questi strumenti però da giugno luglio quando uscirà la prossima fork fondamentalmente quello che si vedrà è che non ci sarà più bisogno di fare questo perché sarà il client stesso il wallet stesso a suggerirci la fee più adatta perché sarà diciamo prevedibile come fee piuttosto che adesso che in pratica è l'asta allolandese fondamentalmente però è un argomento molto vasto Paolo quindi lo tratterei poi con le dovute attenzioni nella prossima volta ok Lorenzo prego allora volevo chiedere giustamente si parla di Ethereum perché è quella che al momento come blockchain garantisce il maggior tasso di decentralizzazione che è sicuramente un fattore fondamentale in tutto questo ora ci sono tanti progetti che stanno provando ad abbattere le fee Ethereum compreso che con Ethereum 2.0 vuole cambiare meccanismo e passare alla proof for stake se non sbaglio ma anche Cardano Polkadot in qualche modo adesso questi progetti diciamo sono tutti quanti coesistenti tutti quanti con una buona capitalizzazione di mercato hanno tutti quanti molte aspettative che si sono costruite attorno ad essi vedete è più probabile il fatto che un po' come i Lander ne vincerà ne resterà uno solo oppure che si venga a creare un'interoperabilità fra blockchain sostanzialmente cioè dei meccanismi di automatizzazione che permettano di perché come dire un po' su Ethereum e Binance Chain si vedono tanti progetti che sono paralleli ognuno interoperabile nella propria blockchain e poi con le versioni URAP dei token si riescono ad utilizzare quei token sulle rispettive blockchain il fatto che esistano queste altre blockchain secondo voi vuol dire che ogni blockchain si specializzerà più o meno su qualcosa un po' come Tron che non sta più o meno al momento dedicandosi a finanza decentralizzata almeno che io sappia oppure vedete un po' una competizione da questo punto di vista secondo me c'è più che una almeno faccio una una considerazione tecnica più che diciamo dal punto di vista finanziario perché ripeto non sono la persona adatta a parlarne però credo che tecnicamente ci sono delle blockchain che possono già fare interoperazioni praticamente quindi possono già comunicare penso alla BSC penso a Ethereum non penso a Cardano perché non è VM compatibile quindi non so come quali sono i suoi progetti per diventare interoperabile però credo che tutte quante a loro modo avranno il loro spazio ovviamente si tratta poi a quel punto di utenza nel senso se su Polkadot ci sono migliaia e migliaia e migliaia di utenti milioni di utenti allora è giusto che ci sia interoperabilità tra una blockchain e l'altra però fondamentalmente se mi chiedi dal punto di vista come progetto quale crescerà quale diminirà eccetera eccetera non te lo so dire anche perché sono speculazioni che ripeto non mi interessano mi interesso più che altro delle tecnologie che ci sono dietro e quello che vedo è che ci sono blockchain che stanno andando avanti come appunto Polkadot aveva presentato delle cose interessanti Matic aveva presentato delle cose interessanti per far comunicare blockchain eccetera quindi dal punto di vista tecnico secondo me ne vedremo abbastanza da varie varie blockchain dal punto di vista finanziario di progetto quale ha il futuro quale non è il futuro non lo so perché non non voglio minimamente speculare su questo cioè credo semplicemente che almeno da sognatore immagino che vincerà quella lì che è più forte tecnicamente che è più forte come utenza che è più forte come liquidità eccetera eccetera sì no purtroppo o per fortuna è impossibile sapere quali sarà la prevalente in tutto questo più dal lato del linguaggio di programmazione non so se avevi notato delle diciamo maggiori o minori difficoltà fra le varie blockchain esistenti o se si appoggiano tutte su solidity da questo aspetto qui sì allora su questo aspetto su questo aspetto tipo su questo aspetto tipo Matic Network che adesso ha anche cambiato nome si chiama Polygon secondo me è quello che ha beccato il punto che praticamente lui collega tutte quante le blockchain che al momento sono la maggioranza delle blockchain diciamo alternative tutte quante le blockchain che si basano sulla sull'Ethereum virtual machine o che in qualche modo sono compatibili con i contratti di Ethereum e quindi fondamentalmente dei passi anche grandi si stanno facendo verso questa direzione le blockchain sono tutte quante compatibili quando le blockchain sono tutte quante compatibili allora possono collegarsi tra di loro se le blockchain utilizzano tecnologie differenti allora c'è sempre il bisogno di una terza parte in mezzo e lì si va a perdere praticamente tutto quanto lo spirito del software aperto delle infrastrutture aperte trasparenti eccetera eccetera Gianluca prego no no nulla io giusto avevo alzato la mano quando si stava parlando di cioè di qual era il consiglio perché era una domanda che aveva fatto avevamo fatto noi su un gruppo così ovviamente non sono consigli finanziari sono soltanto un po' quello che si legge in giro è giusto quello che volevo dire se Antonio parla del lato tecnico ecco quindi stavo parlando perché nasceva da me la domanda poi a ricordarsi che quello che abbiamo tutti in testa sì ma se c'ho qualcosa da voler buttare lì esattamente volevi buttare lì cosa ti senti che si legge in giro ecco era più una cosa del genere perciò avevo alzato la mano sì quello sì fondamentalmente anche prima quando ne abbiamo parlato è tutto quello che si sente in giro è quello prendi fai l'ending fai questo fai altro però sono tutte strategie cioè io non mi sento di consigliare anche perché è come consigliare fai un mutuo piuttosto che fai un'altra cosa cioè veramente per me hanno lo stesso identico valore assolutamente sì assolutamente sì quindi riabbasso la mano prego 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 Antonio io avrei un'altra domanda riguardo la tecnologia ho visto che praticamente ci sono delle stanno nascendo comunque un sacco di progetti basati su blockchain ma alla fine tutti quanti creano una loro blockchain parallela ma si basano tutte su quella di ethereum cioè come dato che comunque le di cioè le gas fee di ethereum sono diventate alte cioè questi progetti come fanno ad essere elitissimi ma comunque efficienti perché ad esempio ci sta un progetto che si occupa di blockchain per il food mi sembra che si chiama è un network si chiama quadrants se non se ne ricordo bene praticamente questo questa blockchain è stata scritta sulle source cioè praticamente è un fork di ethereum ma quindi loro hanno tipo due token hanno un token che è registrato sull'ethereum e poi hanno un altro token interno sulla loro network cioè come fanno questi progetti a a funzionare se comunque si basano sulla blockchain di ethereum il fatto che ethereum è una tecnologia poi che c'è il network principale di ethereum è normale poi ovviamente tutti quanti possono prendere il codice di ethereum e crearsi la propria blockchain a casa cioè ricordiamoci che comunque le blockchain sono delle reti io potrei creare la mia blockchain in casa con quattro computer e faccio la mia blockchain poi ovviamente il valore che c'è dietro a un progetto dietro a una blockchain dietro a un ecosistema è il fatto che ci siano degli utenti che la utilizzano e ci sia della liquidità bloccata e ci siano tanti e tanti altri principi dietro fondamentalmente però tutte quante qualunque blockchain si potrebbe basare su ethereum basta che forca il codice o che si scarica il client e che crea una una blockchain propria fondamentalmente dunque praticamente loro tengono questo token diciamo sulla rete ethereum e in più questo token invece loro proprietario all'interno della loro rete diciamo per magari per individuare chi è che ha più liquidità e quindi può avere un ruolo più diciamo autoritario all'interno sì il proof of stake cioè quello è il proof of stake cosa che fanno praticamente la maggior parte delle forche di ethereum utilizza quel sistema però la diciamo va incontro alla centralizzazione se usi il proof of stake quello lì classico diciamo cioè quello lì che è sempre stato pensato che utilizzavano anche altri oggetti ok ok capito grazie ne hai nessun altro Armando? no non ci sono altre domande ok ok va bene ragazzi allora direi che possiamo chiudere qui se non ci sono altre domande va bene e va bene ringrazio Antonio e Michele per averci fatto questa diciamo per la vastità del dell'argomento questa breve panoramica però comunque molto esaustiva tratti anche molto abbastanza dip nell'argomento poi diciamo se più di là possiamo fare anche un un form su cui potete anche esprimere vostre preferenze da poter approfondire con un eventuale incontro futuro quindi ringrazio anche tutti i presenti ringrazio gli amici del Nalug che sono stati e hanno accettato il nostro invito e niente vi invito anche ad iscrivervi all'associazione che come ha detto Paolo all'inizio sarà a titolo gratuito e diciamo a donazione volontaria la nostra iscrizione è 20 euro però chiaramente vista diciamo la non attività la bassa attività che abbiamo avuto l'anno scorso abbiamo deciso quest'anno di farla gratuita con eventualmente una donazione volontaria per ora il form è ancora a pagamento però diciamo nei prossimi giorni sarà Sergio Casizzone sicuramente diciamo aggiusterà la cosa quindi non so seguiteci su facebook appena vedete che sbloccheremo le iscrizioni potrete iscrivervi tranquillamente e se non ci sono domande diciamo possiamo chiudere qui a chiudere chiudere a chiudere Grazie a tutti.